Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, prende le distanze dalla decisione della prefettura concordata con la diocesi di aprire un centro di accoglienza per migranti a Leggino. La Caprioglio ha evidenziato di aver appreso della decisione nel corso di un incontro con il prefetto e che l'amministrazione comunale non ha avuto voce in capitolo in merito. La prima cittadina ha anche espresso una serie di preoccupazioni per questa situazione dal punto di vista della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle garanzie sotto l'aspetto sanitario e le è stato assicurato dalle autorità competenti che la permanenza di ogni singolo individuo sul territorio di Savona non supererà le 24-48 ore. Ilaria Caprioglio ha chiesto che venga garantito un monitoraggio non stop dell'area, sottolineando che Savona è una città di accoglienza ma prima ancora è una città di regole e che l'amministrazione comunale metterà sempre all'interesse dei savonesi prima di ogni altra cosa.